ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di ten 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 ciaone e voi faccio letto oggi ci prepariamo per sentare questo mammutone gigante mammutone cioè una mamma grossa è un mammut della grassale allora io ho rivellato un po' la squadra leggermente leggermente questo qui se lo mette bene anzi voglio provarlo subito è buono troviamo cioè è buono è forte quindi ora noi lo metteremo subito alla prova ragazzi grazie per la considerazione a mac mammut ragazzi dai questo qui è un osso duro ragazzi è un osso la mia prima run ho faticato parecchio per batterlo perché poi fa una mossa tutta quella sopra la boccia è veramente un massacro dai dai iniziamo a sparare fuoco dai tu mi stai aiutando no della verità ho preferito andare su a morire sono già morti sono già morti eccoli rimani paralizzato bestiazza bestiazza sta lì non dire cazzate che poi dobbiamo medicare per nuova io lo sto io lo sto paralizzando mi rende il colpo di grazia mani 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 ovviamente sta cadendo il microfono si sentite ragazzi si sentite si vero abbiamo chiamato l'audio anche stavolta dai dai che sta perdendo colpi adesso siamo esperti ma sta piccosa ed è una vita che non serve questo gioco nooo con il microfono tutto qua speriamo dai 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 non c'ha la vita questo qua no purtroppo non ha la vita ma perché scappa scusami oh sono due non avevo visto l'altro ah sono due fantastico bene grazie non lo sapevo che erano due penso a questo solo uno infatti vedi che non c'era la vita ehi a fammi mi ha tolto un po' di vita però ragazzi di notare che bello lo spugno oh c'è un missile blu c'è un missile blu c'è un missile blu eh l'ho visto mio 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 dai che faccio strage dai che faccio strage kaboom c'ho anch'io ma ti ho un mega raggio dai che l'ho colpito l'ho colpito l'ho colpito l'ho colpito dai 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 che uno lo stiamo facendo fuori ah ah ecco la mia sua mossa sta aspirando la sopprovocide ci risucchiera tutti se lo stiamo attenti dai dai paralizzati 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 eh vuolevi eh prendi questo prendi questo è venuto una montagna di robotico si ma non muoiono mai sono ossiduri l'ho detto io ah io mi ha fatto fuori mi ha fatto fuori mi ha fatto fuori mi ha fatto fuori mi ha sciuttato fuorita dai dai paralizzati paralizzati dai 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 sto facendo un fuori sto prendendo i pulsanti con fuori no 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 c'era nintendoigu scarica arrivedo claudia per piacere Ed eccola la claudia l'elettro lì dacci una mano dai claudia su per piacere c'era tra nintendo scarica c'era lì un caricatore mi orienta miurà pits per piacere Ma non lo so, non lo so perché Boh, è morto No, non è ancora morto, perché quando muore finisce i mille pezzi Grazie per me Eh, sono due Dai che uno è morto, è morto quello lì, è morto Andiamo subito sull'altro Dai che muoio anche tu Paralizzati, paralizzati, paralizzati Mi ho sposo malissimo Lo tengo paralizzato, grande colpo Dai 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 che manca poco Dai che sta perdendo colpi Dai lo tengo fermo, lo tengo fermo, mi spara Grande Dai, 30 secondi Questa che non me ne salti fuori l'ultimo Dai, sì Sì Purtroppo non ci possono vedere Ma Mattia ha appena fatto una dub Roba da spavento Perfetto Saliamo anche di livello Sì, a voi, livello 4 Grande Buster Niente, io ragazzi adesso cedo il mio comando A mio fratello Che gioia di giocare che ha Buonasera Basta, basta Dai su, allora chi è che gioca? Forza, passiamo subito Un fratellone, bravo lui No, salvo le medaglie, sul serio, 50 medaglie, me ne mancano due Me ne mancano due, mettiamo in casa e torniamo subito Una medaglia Adesso riusciamo a sbloccare Oh Ehi Eh Ci sono due a cercare Eh, perché c'è la cosa? Eh, cos'è che c'è? Un 1 metro Proseguiamo, sbrippiamo di aro No, siamo solo all'inizio Sì Vediamo che l'abbiamo sblocato Un contesino medaglia Oh mio Dio, no No, su serio Oh my God Vero potere Oh my God Non dine che c'è quello che penso io Ciao Ci vediamo Grazie di tutto Alla prossima Vai a nanna Bravo Vai a nanna Oh mio Dio Siete davanti a chi è che gioca? Fin c'è ne avete due Ciao Abbiamo due Abbiamo due Uffa Sì, ciao Uffa Ma se cosa, Guenta, compri che non ti ha iniziato Minaccia rilevata nel complesso industriale Dopo il prossimo faccio io Sì Buonanotte Ciao, ciao Claudia Perché c'è il mio faccione, va? C'è anche il drago o questi con il drago? Arriva dopo il drago Ah, cioè devi ammazzare prima le vespe e poi il roso Chi ha fatto questo gioco? Non grado Dai, dai che c'è quello rosso Non ho ammazzato nessuno Non ho più piu' Ma ti ha occhio le vite? No, ti ha vite io Eh, fai Dai che mi mancano 40, mi mancano Dai, 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 dai Ci accade il dia occhio a me C'è uno buio visto, dovendo più finire per lo bimbo Mi hanno ammazzato Mi hanno ammazzato Ups C'è uno blu Cioè in due minuti Uso la mia batteria Certo, spero Dai che ho fatto una strage Ho fatto con il mio blu Ho sviluppato anche un collezionabile Dai che ho fatto un altro mostrato Dai Sai che se andiamo così ce la facciamo? Dai, dai, dai Che ce ne sono altri qua Dai che mi mancano 8 Dai, dai, 6, 6 4 Dai, bravi, bravi Dai, Claudia, fai di qua il pesce E' un attimo 2, dai, dai, ancora uno Dai, dai Dai Credo ce ne è uno di ammazzare Non riesce ad ammazzarlo? No, uno è il drago E' qua, Claudia, è qua Io c'ho il mio Ecco, grande, 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 grande Così gli stavo subito in faccia Toh Dai, via, subito, subito, subito Sparagli Un due Dai, dai che io stavo subito anche questo Dai che lo colpite da volte Dai che ti paralizzo Gli ho già tolto una testa, dai Dai, dai, mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso Ce ne è uno di ammazzare Ho visto uno di quell'esco Dai Molto bene Si Dai Dai, dai, dai Che ti spargo, dai Dai Con tiri Si, si 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 La Claudia è stata chendo La Claudia è stata chendo Che si si Piびloce Dai, dai, dai Dai, lo ho salvato io troopate ju Mi devi ringraziare Due 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 no non è morto metà vita dai che 50% dai 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 che mi sono liberato vai che avete mutuo non c'è neanche la munizione qua però vai 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 va vai 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 va vai 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 non ci riusciamo mai nella vita, mai nella vita neanche a questo livello e anche se ci sono ii non ci riusciamo ma anche la situazione ma è chiaro non ci sono non ci sono non ci sono mi ha preso! 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 mi ha preso con due torte! mi ha sparato tutti in mezzo! tu ti si è fatto prendere? ma questo lo si chiama di prendere di tutto questo? eh? eh si! ma si! non lo so! non lo so prendere! uno ha vinto! uno ha vinto! uno ha vinto! no! game mover! game mover! no! game mover! corta vacca! niente questo livello non se lo fa! tu mamma! mamma che non si bene! non si bene! ah solo due vittiglie! quella è più bella! o solo due vittiglie! quella è più bella! o solo due vittiglie! o solo! sono un morto! sono center 1, 60! gli ucci li abbiamo fatti fuori! solo dieci! no! boh non lo so! non so quante erano! dai che ho fatto il botto! fatto il kaboom! Dai 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 che stavolta mi devo merda, dai che stavolta mi devo merda Eh di come va la tua spinta, ta 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 30, 30 dai 35, 25 35 35 35 35 36 37 37 5 asciugare parte molto ora è vero che stiamo con un accidente stavolta uno che stiamo fuori mi manca uno si è ammazzato dai dai che la succede il dragone però stavolta mi sa che si è messo bene è sempre coca subite si è asservato? adesso mi sta prendendo mi sta prendendo mi ha preso mi ha preso buon perfetto mi sono liberato dai dai no no mi prende ancora mi prende ancora grande bomba no mi hanno preso in bocca non me ne ho accorto non me ne ho accorto vai indietro adesso non ti andai ancora 8 non so che andare indietro ho detto qualcosa di tutto di me non c'è uno qui non c'è uno qui era super non c'è uno qui ma anche se non c'è uno qui sai che forse stavolta ce la facciamo oh ciao mattia c'è vicino vai ok c'è uno blu a testa c'è uno blu a testa che ha buon che vasto l'hai preso? si tagga 5% tu ce l'hai quello blu? l'ho già usato anch'io abbiamo usato insieme 8 8 mi hanno ammazzato c'è uno blu prendilo c'è uno blu e questo è stato il primo livello ragazzi facciamo tre livelli a video facevamo dai Milena avanti 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 tutta ti ruacca grazie grazie grazie